Il Foligno chiaramente non può pensare all'avversario, non può guardare in casa altrui a altri problemi da risolvere. Sì, soprattutto il problema più grosso è la prima vittoria in casa dove manca da tanto tempo. Spero che sia la volta buona, ma soprattutto, come hai già sottolineato, non dobbiamo guardare più di tanto l'avversario. Dobbiamo cercare dentro di noi quel qualcosa in più che ci deve permettere poi sia di essere tranquilli in fase di possesso palla, un pochino più aggressivi e cattivi nella riconquista della palla. Come stanno vivendo i giocatori questa partita? Una sorta di out-out perché a questo punto riuscire a mettere Fieno in cascina è importantissimo. Sì, intanto pensiamo alla gara di domenica dove è importantissima, ma soprattutto per acquistare quella stima, quella voglia, quel desiderio che oggi non dico che manca, però vedo i ragazzi non tranquilli, soprattutto in casa. Anzi, in casa dobbiamo avere una spinta in più, soprattutto dai nostri sportivi, dai nostri tifosi, dai nostri ragazzi che onestamente si stanno comportando bene con fronte di questi ragazzi, anche se c'è qualche critica, penso che sia scontata. Però non vengono martellati o massacrati dall'inizio alla fine della gara. Quindi quel giocare in casa ci deve trasmettere qualcosa in più, cosa che in queste due gare non ho visto. E voglio soprattutto questo, aggressività in ogni zona del campo. Sono ottimista perché, come ho sottolineato, purtroppo quello che a me fa sperare, sono convinto che alla fine questi ragazzi ne vengono fuori. Nel senso che ognuno di loro non riesce a dare, ognuno di loro, singolarmente, non riesce a dare quello che ha. Ecco, voglio vedere domani questa squadra convinta, sicura, ma soprattutto cattiva e aggressiva.